settima prova forse sia la settima giovedì 2 agosto ok rosso 1 bello sto rosso qua no togli vai bene una sequenza vai ok stop prova con questa qua basta basta e come diciamo come proprio fenomenologia del lato cioè come la percezione come proviamo abbassare quella dietro un amico che non parla e non ride un lavoratore ha patentato un pezzo d'uomo e stringono ogni giorno più forte i cento legami sottilissimi ma saltissimi della nostra amicizia quanto l'ha pagato? 30 soldi non li vale e ti vogli bene da quel momento perché ti avevano offeso come per darmi un abbraccio ecco secondo me è un gesto che può già andare bene però che può diventare anche qualcos'altro può diventare anche qualcos'altro si la vedono la vedono però secondo me dovrebbe essere più grosso Stefano mi fai solo contenta mi avvicini la luce mi allontani così vedo come cambia così è lunghissima così è lunghissima non funzionarebbe no sì ma secondo me adesso bisogna studiarlo un po' così eh mi sa che sta scena però serve che ci sia quindi quindi buonanotte a tutti e quindi e 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 Grazie a tutti